Un bilancio degli ultimi giorni, anche degli ultimi mesi, dopo l'ennesima chiusura imposta dal PCM Conte? Diciamo che il lavoro, già il periodo post natalizio non è normalmente un periodo diciamo così florido per il commercio Sicuramente queste nuove chiusure, anche se a dire la verità per noi che vendiamo prodotti di prima necessità magari ci può essere anche un qualche incremento dovuto al fatto che la gente non circola come prima però comunque il lavoro è sicuramente a ribasso, l'indice è a ribasso, quindi non è un bel momento sicuramente Durante le festività voi avete fatto qualche specialità tipo panettoni, hai venduto anche qualcosa per le feste? Devo dire, il Natale non è andato male da un punto di vista commerciale, sicuramente più o meno siamo ai livelli dello scorso anno, quindi non eccezionali ma comunque normali la gente viene da noi per comprare i pan dolci sostanzialmente, oltre che gli approvvigilamenti giornalieri e devo dire che il lavoro non è stato male da un punto di vista commerciale certo non è stato Natale sicuramente, psicologicamente l'atmosfera non è natalizia insomma c'era qualcosa che non andava grazie a tutti